Ieri sera a Polla, presso il Comune, l'incontro dei sindaci del comprensorio sulle sorti del punto nascere in procinto di essere chiuso. Accadrà, per ora è deciso, il prossimo 1 gennaio. Al centro della discussione il ricorso al TAR in merito alla chiusura, già deliberato dall'amministrazione Giuliano e anche dal Comune di Padula, ricorso affidato all'avvocato Nicola Senatore che sarà presentato entro il prossimo 15 dicembre. Fiducioso ma non troppo, si è detto ieri sera Rocco Giuliano in quinta Commissione Sanità la scorsa settimana aveva ottenuto rassicurazioni ma le ritiene solo parole. Ecco allora che ha deciso di giocarsi la carta del ricorso trovando l'appoggio dei sindaci presenti ieri sera. Evidentemente tutti concordi per una volta sul non lasciare nulla di intentato. Sono soddisfatto, era tempo che non ci venivamo tutti a parlare di problemi. Stasera abbiamo parlato del punto nascere che è qualcosa che in questo momento ci ha indignato un po' la popolazione del Valle di Diana ma non solo ma anche noi amministratori. Voglio solo augurarmi che stasera da un ragionamento sereno sul punto nascere possiamo parlare anche di altri problemi che investono nel nostro territorio quindi vederci ogni mese, ogni 15 giorni in modo che possiamo affrontare tante problematiche che interessano alla crescita economica e allo sviluppo del nostro territorio. Forse se avremmo fatto questo nei tempi passati non avremmo avuto qualche scippo che oggi rimbianciamo come il Tribunale o il Caccio o altre cose. Nonostante le remore iniziali e nonostante resti fermamente convinto che la strada più efficace per scongiurare la chiusura del servizio sia quella di far leva sul governo puntando sulla strategia delle aree interne, anche il presidente della comunità montana, nonché sindaco di Monte San Giacomo, Raffaele Accetta, ieri sera si è detto d'accordo a procedere anche con il ricorso. Era opportuno come abbiamo potuto ascoltare fare questo tipo di valutazione oltre che ascoltare l'avvocato che è stato incaricato che sta producendo il ricorso al TAR ed eventualmente indicare all'avvocato stesso anche altre motivazioni da poter sostenere nel ricorso che come ci è stato spiegato non è un ricorso solo riferito alla Regione e quindi al decreto della Regione ma è un ricorso che viene riferito anche al Ministero e al Comitato Nazionale dell'Appunto Nascita e quindi siamo comunque impegnati a sostenere questa nostra richiesta. Oltre ai sindaci ieri sera a Polla c'erano i sindacati e il direttore sanitario del Luigi Curto, il dottor Luigi Mandia, che ha confermato l'impegno dell'ASL sulla vicenda. Noi ce la stiamo mettendo tutta, lo dico anche a nome del commissario straordinario, il dottore di Ervolino che è commissario di ASL Salerno e che promulga così come l'ente a cui ovviamente appartengo in qualità di dirigente, in questo momento il massimo impegno per far sì che il punto nascita non solo possa rimanere ma anche trovare quei miglioramenti necessari a una qualità di assistenza che sia sempre la migliore.